Il Governo presenta le sue contromosse per tentare di superare il ricorso del gruppo dato al Tar, mettendo al sicuro il Decreto Legge del 7 luglio con cui l'Esecutivo ha revocato la concessione delle autostrade a 24 e a 25 a Stada dei Parchi, imponendo il subentro immediato di Anas. Il Tar due giorni fa aveva sospeso i due atti principali su cui si basava il Decreto Legge. La mossa del Governo è presente in realtà un po' sotto traccia in un emendamento pubblicato però nel sito del Senato e quindi visibile a tutti. Il Governo chiede in sostanza al Parlamento di modificare un decreto del 16 giugno, inserendo in pratica la stessa norma in un'altra legge. In un nuovo articolo si legge in sostanza che il Decreto Legge del 7 luglio è abrogato, meccanismo non semplice da capire, ma se il decreto è abrogato, per gli esperti cesserebbe anche la materia del contendere e il Tar a settembre non potrebbe decidere nel merito. Per superare altri poterici problemi, il Governo ha inserito nello stesso emendamento una specie di scudo collegando il Decreto Antistrada dei Parchi al PNRR, cosa che imporrebbe a tarre il Consiglio di Stato di decidere subito. Non si sa però se questo escamotage si può definire così, potrà andare in porto. Ieri intanto il ministro Enrico Giovannini era atteso all'Aquila ma non si è presentato, c'era però Marco Corsini, commissario da due mesi per la messa in sicurezza delle autostrade. È una vicenda che era un po' nell'aria da tempo, ha avuto questa serie di colpi di scena a catena, vediamo se la situazione è stabile fino a settembre o se succede qualche altra cosa. Noi, come dirò anche tra poco, alla fine il commissario è l'unica figura sicura. Per quanto mi riguarda quello che io avrei dovuto fare con Strada dei Parchi, devo fare con ANAS, non è che dal punto di vista mio cambia, dal punto di vista dell'oggetto della missione. È chiaro che è cambiato il contesto e valuteremo quando, come si dice a bocce ferme, se si fermano. Valuterà l'avvocatura se ci sono iniziative da intraprendere e anche questo aspettiamo. Il presidente Marsilio intanto ha incontrato sia i sindacati di Strada dei Parchi che ha sentito il ministro in videoconferenza. Il governatore è preoccupato per la situazione occupazionale e ha chiesto a Giovannini un po' di prudenza. Questo decreto improvviso e improvvisato, non ci sono misure precise sui lavoratori, anzi c'è anche lo spazio di una forte preoccupazione perché c'è scritto che ANAS assume il personale nella misura in cui lo ritiene necessario e quindi non è detto che tutto il personale possa transitare, tolto quello dirigenziale che è già di fatto escluso e comunque sono lavoratori anche quelli. Sono tornato a chiedergli riflessione e prudenza rispetto a una strada che rischia comunque di avere un costo molto alto. Il decreto attuale già stanzia 560 milioni, sapete che Totone chiede 2 miliardi e mezzo, grazie. Grazie.